mamma mia mamma mia ancora ripensando alla partita di ieri cioè non ce la faccio a capacitarmi di ciò che ho visto in sei minuti e oltre di ciò che potevamo fare poi alla fine del pareggio che potevamo acciuffare quantomeno e falliamo clamorosamente il rigore o meglio pellegrini fallisce clamorosamente il rigore sì ok sto metabolizzando piano piano ma perché per il semplice fatto che un romanista ormai è abituato a figure del cavolo e è triste dirlo ma quasi me le aspetto figure del genere quasi me le aspetto certo ogni volta sembra di averle viste tutte ma ogni volta poi riusciamo a toccare maggiormente il fondo anzi a scavare proprio il fondo ad andare oltre il fondo ogni volta e non è possibile questa cosa non è possibile perché cioè ormai non so più quanti anni sono che ogni volta incappiamo in passi falsi clamorosi figure del cavolo quindi ripeto brutto dirlo ma almeno io come tanti altri insomma ci ho fatto l'abitudine è veramente una cosa triste questa triste 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 ingiustificabile l'atteggiamento di ieri e ora ieri ero veramente arrabbiatissimo arrabbiatissimo perché un tifoso che vede che è legato da una squadra e vede determinati atteggiamenti una una quasi una presa in giro proprio nei confronti dei propri tifosi perché santo dio tu stavi vincendo 3 a 1 avevi giocato non una partita perfetta assolutamente ma stavi cioè la stavi controllando due gol ad inizio secondo tempo erano l'ideale per mettere al tappeto una juve che è altalenante e non è sicuramente perfetta in questo campionato cioè ti sei sei riuscito a prendere tre gol in sei minuti non so che dire innanzitutto vi saluto e ben ritrovati a tutti in questo nuovo video se non l'ho già fatto ma la mia mente è altrove quando parlo di queste cose mi distraggo perché proprio ripenso a ieri e a tutte le cose che sono successe quindi perdonatemi magari se sono ripetitivo in alcune cose iscrivetevi campanella mi piace ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo roma juve ma riguardo la serie a questa giornata di serie a in generale che si che si concluderà tra l'altro domani con con scusate con cagliari bologna non ritrovavo il match tra l'altro oggi bruttissima sconfitta della fiorentina ma poi a fine video insomma o meglio nella seconda parte del video parleremo degli altri match dell'inter che comunque continua ad essere solida ma non scappa perché ha una partita in meno un punto in più sul milan che però tiene vincendo 3 a 0 a venezia comunque il milan è sempre lì ma ci arriviamo fatto sta che parliamo un altro pochino della roma parliamo di certi giocatori che non si sa come sono veramente peggio di dottor jekyll e mister hyde fanno magari una partita buona fino ad un certo punto ottima fino ad un certo punto poi si spengono si spengono e basta che la roma prenda un gol quindi incappi in una situazione negativa che poi succede o rischia di succedere il finimondo cioè non non riesci a risalire non riesci a reagire e quella è la cosa più preoccupante perché tu dopo che prendi il gol del 2 a 3 quindi la juve che accorcia le distanze locatelli solissimo tra l'altro e dici oh cavolo ho fatto questo errore cerchiamo di controllare il match come posso fare ti aggiusti magari tatticamente ti fai sentire in campo o meglio quelli che dovrebbero essere i leader insomma si dovrebbero far sentire in campo dovrebbero far sentire la propria pressione voce ai propri compagni e dire oh ragazzi svegliamoci abbiamo subito un gol da una squadra che si chiama sempre juventus ma siamo avanti 3 a 2 abbiamo giocato bene fino ad ora non abbattiamoci continuiamo a giocare come abbiamo fatto e invece no cioè tu crolli mentalmente crolli non c'è niente da fare ed è una cosa non preoccupante di più hai preso gol da desciglio con tutto il rispetto secondo gol in serie a e anche qui ormai sono francamente abituato noi siamo quelli che facciamo resuscitare i morti ogni volta noi siamo quelli che facciamo fare i primi gol in serie a o in stagione sempre sistematicamente siamo quelli degli ex malefici che praticamente danno anima e corpo contro di noi veramente con il coltello fra i denti con il sbavano sangue non riesce la saliva dalla bocca ma riesce il sangue eccetera eccetera cioè potrei continuare fino a domattina quindi sono abituato anche sotto questo punto di vista però c'è un limite a tutto cioè la cosa preoccupante è che non riesce a dare una spiegazione a quello che si è visto ieri in quei sei minuti e oltre non riesce a dare una spiegazione cioè nemmeno murigno se la riesce a dare questa è la cosa preoccupante cioè lui dice abbiamo fatto un'ottima partita per 70 minuti cioè io pensavo conoscevo insomma praticamente ha voluto dire conoscevo i problemi di questa squadra e le cose da aggiustare di live di qua insomma però credevo che lui ha lasciato intendere che cavolo sei in vantaggio 3 a 1 un minimo di gestione della partita e portarti a casa un match santo dio non è che ci siano stati poi degli episodi magari un'espulsione un calcio di rigore che ha rianimato gli avversari e lì può succedere di tutto perché magari vanno l'arrembaggio trovano il 3 a 3 ma finisce lì stop cioè no tu all'improvviso sei passato da bianco a nero letteralmente nel vero senso del termine nero perché ci hai visto nero non hai visto più nulla cioè non ci hai capito più niente per dieci minuti perché poi mettiamoci anche il rigore di pellegrini che poteva ritirare su un match che si era capito che era un match pazzo ormai in cui poteva succedere qualsiasi cosa perché dopo il 4 a 3 della juve comunque la juve rimane in 10 calcio di rigore se lo segna hai praticamente 10 minuti anzi un quarto d'ora più il recupero perché poi è stato dato credo 5 sono stati dati 5 minuti di recupero 5 6 minuti adesso andando a memoria non ricordo fatto sta avresti avuto l'uomo in più in casa con tutto il pubblico che è spettacolare il pubblico romanista la tifosera romanista è spettacolare ragazzi e e avresti potuto magari portarti a casa il match sì in un modo rogambolesco a quel punto ci sarebbe stato anche da recriminare ma nel senso o cioè svegliatevi stavate vincendo 3 a 1 mi siete fatti recuperare poi l'avete portato a casa un po di fortuna ok ma sarebbero stati tre punti sarebbero sta sarebbe stato al massimo cioè peggio che poteva andare un punto che era comunque un'occasione persa per come avevamo avevamo messo noi con le nostre capacità la partita cioè inspiegabile cioè io al rigore mi sono spazientito anche io che sono di carattere abbastanza mite insomma mi sono spazientito veramente volevo spaccare qualcosa perché ho detto cavolo già hai subito tre gol ma almeno il rigore ma lo vuoi segnare ma vabbè avete capito insomma fatto sta che mi riallaccio un attimo al discorso muligno e non sono nemmeno d'accordo con quei si avrà fatto i suoi errori di là di qua ma bisogna puntare su di lui perché questa è l'ultima spiaggia per la roma poi per carità potrà succedere qualsiasi cosa in futuro nessuno potrà sapere però ne sono passati tanti a roma come disse carlo zampa qualche tempo fa se non ci sa mettere le mani murigno mettiamoci l'anima in pace perché è veramente guardiamoci il calcio oppure dedichiamoci dedichiamoci ad altro perché non si potrà cioè non si potranno risolvere tali problemi cioè se non riesce a risolverli lui un allenatore del genere che aspettavamo da anni un allenatore del calcio del suo calibro veramente non so cosa pensare non so cosa si possa fare quindi andiamo anche contro e spegniamo le polemiche sotto questo punto di vista di chi dice murigno out di là di qua no no e no bisogna continuare con murigno assolutamente bisogna continuare perché l'unica ancora di salvezza poi certo progetto di tre anni il primo anno doveva servire comunque a mettere delle basi buone e non è detto che non lo si possa fare ancora per carità certo è un momento difficile ma se ne esce tutti insieme senza cacciare nessuno senza gridare allo scandalo di là di qua più di questo non so che dirvi ragazzi parliamo un po del resto dopo questa scusate se vi ho fatto sorbire insomma questo sfogo tra virgolette più pacato insomma dopo un giorno in cui ho staccato sono stato all'università quindi mi sono dedicato ad altro poi nel tardo pomeriggio ho iniziato a ripensare a quello che che avevo visto ieri ieri sera insomma a quello scempio e ho deciso comunque di fare un video in cui parlavo avrei parlato a freddo del match e anche delle altre partite di cui non ho discusso non ho parlato insomma fatto sta tema caldo della serata di ieri oltre a rocambolesco roma juve inter lazio 2 a 1 una lazio comunque che si dimostra migliore migliorata rispetto ad altre situazioni passate anche la scorsa giornata ad esempio però alla fine l'inter con un super super bastoni super prestazione gol del vantaggio per lui poi pareggio di immobile poi scrignar a 67 segna sigla il 2 a 1 quindi due difensori centrali che mettono a segno permettono all'inter di portare a casa di portarsi a casa tre punti importantissime l'inter è una squadra solida ma da tempo insomma cioè si diceva anche io l'avevo detto che a livello di rosa è la squadra più completa più completa e che ha più potenzialità secondo me e infatti piano 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 sempre rimasta dietro milan napoli napoli milan sbuca l'inter e mette d'accordo tutti almeno per il momento quindi grandi sotto sotto questo punto di vista grandi veramente e grande il lavoro che sta facendo simone inzaghi perché avrebbe con l'addio di conti il contraccolpo c'era cioè c'è stato inevitabilmente però simone inzaghi si sta dimostrando un bel allenatore un bel allenatore poi la goleata del sassuolo e questa non me l'aspettavo sì ok l'espulsione per per l'empoli che ammazza la squadra toscana praticamente poi tre gol in mezz'ora per quanto riguarda il sassuolo fatto sta che già sassuolo aveva chiuso il primo tempo in vantaggio il napoli di misura comunque c'è c'è non è importante vincere 1 a 0 o 6 a 2 come ha fatto l'atalanta è sempre una vittoria cioè sono sempre tre punti è importante solo per le statistiche e per un possibile arrivo a pari punti per la differenza reti atalanta che vince 6 a 2 ma non è questo il valore dell'udinese perché un udinese scossa nell'animo decimata fatto sta che però non è nemmeno colpa dell'atalanta se l'udinese ha tutti questi casi di covid l'atalanta ha fatto il suo 6 a 2 dilaga poi nel secondo tempo il milan si mantiene dietro l'inter e attenzione al milan perché non è che non è che stiamo parlando di un inter in fuga comunque è ad un punto sopra il milan si ha una partita in meno potrebbe andare a più 4 però comunque cioè al massimo il milan sarebbe a 4 punti dall'inter non tanto distante quindi il milan tra l'altro un capitano del milan se non erro dal 2014 non segnava una doppietta in questo caso teo hernandez l'ha messa a segno 2014 caca se non erro quindi pensate che tempi erano ormai 8 anni fa 7 8 anni fa insomma fatto sta venezia milan 0 3 anche qui un'espulsione per il venezia lo spezia gran colpo a genoa a genova scusate e scherchenko almeno a quanto sembra posizione in bilico panchina in bilico ma chi gliel'ha fatto fare a lui certo comunque gli hanno offerto un contratto era in ucraina comunque dice torno nel campione italiano non voglio mettere in discussione in gioco ci sta accettare una proposta del genere però con tutti i rischi del caso perché sappiamo genoa che tipo di piazza sia certo non c'è più preziosi ma i risultati del genoa non mentono il genoa è penultimo con 12 punti e con una salernitana ad un punto dietro ma con due partite in meno e salernitana che fa un gran bel colpaccio a verona comunque va a vincere in un in un campo su un campo in cui tante big spesso steccano e o 2 a 1 castanos al settantesimo chiude i conti gran colpaccio della salernitana che ricordiamo a due partite in meno ha giocato solamente 19 match su 21 e poi 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 la partita di oggi ne stavo dimenticando torino fiorentina che dire la fiorentina che non scende in campo di fatto e fiorentina che nella però nell'atteggiamento nel nell'approccio al match completamente fuori luogo fuori luogo e partita storta partita storta speriamo per loro che sia solo una insomma che non che non che non lasci strascichi questo questi match anche perché cioè ne so bene insomma ne so bene di queste cose cioè come vi posso dire anche sempre qui ritornando al discorso roma quante volte la roma ha preso scopole pazzesche e poi se queste queste brutte sconfitte se le è portate dietro nel corso delle delle giornate successive e dei turni successivi quante volte è successo quindi purtroppo anche questo ho vissuto sulla mia pelle e che dire singo brecalo doppietta e sanabria mettono a tappeto a sorpresa una fiorentina ma per carità poteva anche starci una una vittoria un explo del torino ma 4 a 0 e fiorentina surclassata sotto tutti i fronti proprio no insomma e domani dicevo già me ne sono dimenticato ok cagliari bologna il match che chiude questa ventunesima giornata di serie a queste partite sono state posticipate appunto per per il covid per i casi di covid non ho ben capito il motivo di questo di questi posticipi sinceramente però fatto sta quello è il il discorso base il covid sempre quello c'entra quindi che dire scusatemi per la tornata del video e vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire e alla prossima ragazzi buona serata a tutti iscrivetevi campanella mi piace ditemi la vostra qui sotto nei commenti e sempre anche anche soprattutto nelle avversità forza forza roma buona sia